Un incontro stamani presso la Casa San Filippo, sede del Parco archeologico di Agrigento, tra i componenti del FAE che gestiscono il giardino della Colimpetra e gli operatori turistici con i quali si è già avviata una fattiva collaborazione e con quanti si vorranno aggregare come partner alla struttura al fine di diventare facente parte del nuovo progetto turistico del FAE. Diversi gli operatori che vi hanno partecipato anche con un educational tour presso il giardino a illustrare i contenuti del progetto denominato Visit FAE, Marina Pizzoni responsabile elezionale del FAE e Giuseppe Lopilato direttore del giardino della Colimpetra. Si tratta di un progetto volto a promuovere i nostri beni ma anche il territorio circostante in chiave turistica. Il turismo chiaramente per noi è un motore molto importante. Il nostro obiettivo è quello di creare una rete sul territorio sia da un punto di vista culturale ma anche commerciale grazie alla collaborazione e all'aiuto di hotel, bed and breakfast, ristoranti, insomma tutto quello che è il comparto turistico e commerciale della zona ha volto proprio a creare una rete di servizi per il turista e per creare destinazione, quindi una destinazione che sia completa nella sua offerta e possa promuovere un turismo sostenibile sul quale noi lavoriamo da tanti anni, grazie alle delegazioni che costantemente si occupano di promuovere, di aprire, di far conoscere al pubblico luoghi che ormai sono dimenticati e che possono diventare dei luoghi molto importanti per sviluppare un turismo nuovo e virtuoso. Quindi il nostro intento con VisitFai è quello di dare un progetto a quello che è tutta la rete del territorio, degli operatori locali che insieme a noi possono contribuire a sviluppare il turismo. Noi oggi presentiamo il contributo che vogliamo dare alla nostra città, allo sviluppo turistico della città, ovvero alla trasformazione del nostro potenziale, delle nostre risorse culturali in economia turistica, perché questa è la scommessa. Noi siamo consapevoli del fatto che siamo fortunatissimi ad avere il parco della Valle del Tempo, un centro storico straordinario, poi insomma dentro la Valle del Tempo c'è questo piccolo gelino che la colo in petra e che curiamo noi con grande passione, ma tutto questo se non diventa economia non abbiamo capito nulla. Allora, noi insieme agli operatori del settore, cioè coloro che materialmente accolgono i turisti, negli hotel, nei B&B, negli agriturismi, nei ristoranti, nelle agenzie, tutti quelli sono i servizi, insieme a loro a inizio stagione ci stiamo incontrando per capire davvero come possiamo lavorare bene insieme, per fare economia, per creare ricchezza e per fare in modo che i turisti che arrivano nella nostra città abbiano un alto livello di soddisfazione dell'offerta culturale ma anche dei servizi di accoglienza turistica. Questo è il nostro obiettivo. Esprimiamo il nostro apprezzamento al dottore Lopilata, a Peppe, al nostro amico Peppe per tutto quello che ha fatto in vent'anni, ricordiamoci che è da vent'anni che Peppe fatica per portare oggi la colo in petra. È un prodotto, un progetto che si offre oggi e che dà la possibilità a noi operatori di far restare il turista un giorno in più. Quei pochi turisti e sempre meno che arrivano a pernottare perché occorre fare la differenza tra il turista che arriva da Grigento e sono ancora numeri elevatissimi e quello che decide di pernottare. Sicuramente un applauso al FAI e a tutto il gruppo dei giovani del FAI e a Peppe Lopilata in particolare. Mi chiedevi cosa occorre. Occorre sicuramente fare più rete, occorre sicuramente trovare delle attrazioni. Abbiamo vissuto di rendita negli anni passati quando scoppiavano bombe qua e là, quando c'erano attendati qua e là in tutto il mondo e quindi gli italiani per prima e soprattutto siciliani restavano qua per evitare rischi. Adesso è finito questo effetto paura e forse non abbiamo fatto abbastanza in quel periodo per cercare di porre in essere degli attrattori naturali che possano supplire tutto quello che non viene fatto.